Alimanti. 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 Please welcome to the stage, Gili Yang from New Zealand. performing Beethoven's Appassionata, first movement. Alimanti. 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 Grazie a tutti. 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 Our next performer is Zhu Tianxi from China playing Debussy etude number 7 for chromatic... Applausi... 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 Grazie a tutti. 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 Welcome. Applausi. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Il primo movimento. Grazie a tutti. 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 For more information about upcoming Millennium Stage Programming, please visit us online at KennedyCenter.org or on Facebook. Thank you and we hope you enjoy the rest of your evening at the Kennedy Center.